vediamo insieme ora come funziona la nuova app per il noleggio con conducente abbiamo ovviamente l'anagrafica clienti, completa e ben sezionata abbiamo ovviamente la sezione autisti e collaboratori che possano essere utilizzati, il tarifario legato a ogni scheda anagrafica e i parametri della propria azienda il motore composto da un calendario che consente la prenotazione l'esportazione ovviamente dei dati anche nel formato Excel una flotta vetture illimitata, il to do service che muove day by day le prenotazioni la fatturazione e quindi l'elenco delle fatturazioni anche in formato elettronico ovviamente potete contattarci per vedere o provare una demo direttamente online arrivederci